Ha ripetuto più volte il termine populismo. Il ministro all'interno Marco Minniti è ospita del convegno organizzato a Mestra dal Partito Democratico di Venezia su legalità e sicurezza. Populismo con cui gli avversari politici interpretano le politiche di sicurezza, a volte in generale paure più che a risolverle. All'invito di alcuni sindaci presenti di suggellare con maggior forza il patto tra istituzioni per interventi più stringenti sulla sicurezza urbana, pur riconoscendo l'apporto determinante del decreto Minniti, il ministro ha evidenziato come lo Stato si deve occupare della cornice operativa che non può prescindere dalla collaborazione di chi vive nel territorio. La sicurezza ha detto è un bene comune che si persegue con sì le volanti a presidio, ma anche con azioni di recupero delle periferie e di presenza sociale nelle zone. Il cittadino ha detto deve riappropriarsi degli spazi, non deve abdicare la propria libertà, un principio necessario anche nella lotta al terrorismo, che è un fenomeno a prevedibilità zero, eppure ha continuato dall'attentato di Berlino. Le strategie messe in campo hanno dato risultati più che soddisfacenti. Lo stesso dicasi per l'immigrazione, che tale non deve essere, in quanto fenomeno strutturale che si inizia a governare, grazie ai trattati con la Libia, i rimpatri volontari assistiti, il piano delle organizzazioni umanitarie dell'ONU che mai erano entrate in gioco. Chi ha diritto all'ospitalità, ha aggiunto, deve essere accolto secondo il principio della reale integrazione con il sistema dell'accoglienza diffusa che permette di evitare assembramenti come quelli di Kona. Ma il ministro non ha mai fatto esplicito riferimento al campo nel veneziano teatro di varie proteste, ma ha sottointeso che è in corso il piano di trasferimenti che porterà alla chiusura definitiva. Questo ha risposto ai giornalisti alla domanda diretta, ma non ha mai pronunciato la parola Kona. Discorso, saluti, stretta di mano e via come al solito, senza concedersi ai microfoni della stampa.